Musica 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 Grazie Porta una cosa Fai una cosa Per cosa? Per la sorella Per i bambini La testa L'oggettoteca è un'idea semplice Un luogo dove prendere in prestito Gli oggetti che ti servono Un progetto che si ispira Alla cultura della condivisione Già sperimentato in Germania E in Austria E dal 2016 con successo Anche a Bologna Ora ci proviamo noi Per la prima volta in Toscana Musica Abbiamo affidato il servizio Alle ragazze e ragazzi che vedi Persone fragili Ma motivate Ora abbiamo bisogno di te Servi il tuo aiuto per lanciare questo progetto Un computer nuovo Gli array di la promozione I tutor Ci dai una mano? Oggettoteca Ciao 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 Ciao